Ancora lavorati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese Fedeli. Traffica al momento regolare sulla rete autostradaria regionale e in FIPILI. Possibili disagi per presenza di personale su strada per lavori in A1 tra BV1 Variante e Calenzano verso sud e tra Rioveggio e Roncovilaccio nelle due direzioni. Stessa situazione in FIPILI tra Ginestra e Montelupo per chi viaggia in direzione mare. Ricordiamo dalle 22 di questa sera partono i lavori in FIPILI tra Montelupo ed Empoli Est. In una prima fase i lavori saranno esclusivamente in orario notturno. A seguire in orario 8.17 e 22.6 con cantieri notturni a tutela del traffico pendolare. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze in piazza Leon Battista Alberti. Traffico temporaneamente bloccato con code per incidente. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.